Buongiorno, oggi parlo di come catturare il mostro Dendroamia al fiume Moodwater. Vedo che la difficoltà principale è trovare l'orario giusto per catturare il mostro. Ora intanto cominciamo con la missione che è quella di procurarsi il cucchiaino di legno prendendo cinque pezzi di corteccia. Monitoriamo la missione. Licenza acquistata. Ho controllato di avere spazio nello zaino per le cortecce. Come abbiamo visto anche l'altra volta andiamo in questa zona e si lancia vicino a questi pezzi, a questi rami affioranti, tronchi affioranti. Il ramo lo tengo perché è sempre il discorso delle emissioni, dei rami, degli oggetti subacquei, delle piante, eccetera, eccetera. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Quindi questo è il problema dell'orario. Andiamo a equipaggiare il nostro cucchiaino. Il leader in titanio. Non è così indispensabile, però penso che convenga usarlo. A volte i mostri fanno i mostri. Tutti scherzi. Allora, mezzogiorno. Si perde tempo e si perde tempo. Anche se siamo al minimo. Anche se siamo al minimo. Anche se siamo al minimo si pesca nella fascia d'orario. proviamo la pesca. Proviamo la pesca di questo giorno di questo giorno. vediamo cosa cosa riusciamo. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere. qui, 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 qui. Qui, qui, qui e qui. Ora vediamo. Ci posizioniamo. E qui, 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 qui. per questo pesce non è così indispensabile la zona perché vedete che molto ampia ma l'orario indispensabile rispettare l'orario grazie grazie ecco un bel lucio nord americano da trofeo facciamo la prova anche nell'altro spot questo è l'altro spot qui è dove l'ho preso nell'altro tutorial che ho fatto ecco guarda fatalità fatalità l'abbiamo preso a mezzogiorno nello spot è l'altra volta quindi io direi che questa è l'attrezzatura limite per questo pesce comunque ritorno a precisare per questo pesca l'importante è la fascia d'orario non non è importante il picco e come vedete si pesca sia di giorno che di notte in questo caso comunque la fascia d'orario cadeva proprio nel giorno di picco per questo caso la fascia d'orario è la fascia d'orario per questo caso la fascia d'orario è la fascia d'orario prende il largo tornando poi potrebbe essere che ci sia il pericolo di bassa tensione della lenza per cui bisogna stare attenti per questo caso la fascia d'orario è la fascia d'orario è la fascia d'orario per questo caso la fascia d'orario è la fascia d'orario è la fascia d'orario è la fascia d'orario naturalmente anche se non possiamo trattenere il pesce la missione è ugualmente completata prendiamo anche il trofeo l'unica cosa che non prendiamo le monete il denaro in questo caso ma prendiamo il denaro della missione quella la prendiamo non prendiamo il denaro del pesce quindi gli XP li prendiamo prendiamo anche gli XP che ci dà la missione più il denaro che ci dà la missione in questo caso dobbiamo rilasciare andiamo a fare la foto ecco qui rilasciamo il pesce comunque vedete riceviamo questo lo riceviamo ugualmente e prendiamo i 1130 di XP il 3010 di denaro e le due monete un nuovo livello è sbloccato questo non ci serve ecco quindi questa è la missione del dendroamia andiamo a mettere la boa ecco qui questa è la boa questa è la fascia oraria della cattura anche qui anche questa è una buona fascia oraria anche se non c'è il picco per mia esperienza le ho catturate con gli altri account anche in questo in questa fascia oraria e nelle zone che avevo segnato prima quella vicino arriva e anche lì avevo catturato il pesce e questa diciamo che questa è la zona dove l'ho preso anche all'ultimo nell'ultimo tutorial arrivederci da Fishing for Dummies e al prossimo tutorial grazie a tutti